segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ora vi presenterò anche i collegati ma prima dobbiamo parlare con il generale camporini perché perché bisogna capire qual è la situazione cartello 10 l'ucraina questo è il fronte orientale allora in rosso la crimea le auto proclamate repubbliche di dones e lugask territori sotto il sostanziale controllo russo già prima dell'invasione il 24 febbraio in rosa le aree contese attualmente sotto controllo russo in blu quelle che potrebbe essere il possibile obiettivo finale di putin di conquista dell'ucraina orientale qual è il problema però cartello 11 che se questo è il piano perché sta bombardando tutte le città dell'ucraina perché sta continuando cosa c'è dietro a una scenario del genere e qual è la condizione sa perché perché può essere che la resistenza tenga durissimo però almeno in un'ora di dibattito qua sono uscite solo ragioni ideali per cui deve resistere ma qualcuno che abbia detto riuscirà a cacciare i russi non c'è e allora penso di far parlare io perché prima ho sentito anche nella sessione precedente dare i grandi giudizi dal punto di vista tattico strategico da persone che probabilmente non hanno l'esperienza adeguata il punto fondamentale è che l'ucraina può vincere e l'ucraina vince non se sconfigge la russia ma se la russia non vince perché se putin non riesce a conquistare il donbass ha perso la guerra in quali condizioni potrebbe non conquistare il donbass ma perché quello che sta succedendo dimostra che le sue forze armate non sono in condizioni di poter conquistare sul terreno una vittoria certa attualmente abbiamo 76 battaglioni russi che sono schierati lungo 400 chilometri di frontiera 400 chilometri di frontiera è un velo e ce ne sono 22 che sono a izium cioè per stare lunghi devono essere poco spessi come quando giocavi col das dove stanno cercando di tagliare fuori le forze ucraine che sono a est lei si combatte la battaglia vera ed è una battaglia che è lungi dall'essere decisa perché perché ci sono tante condizioni tanto per cominciare scusate se sembra banale piove piovendo cosa succede succede che un mezzo carazzato un mezzo blindato non può andare fuori dalla strada e allora sono tutti allineati sulla strada diventano un bersaglio ideale per chi si difende quindi da questo punto di vista le forze russe hanno delle debolezze intrinseche dovute alla situazione strategica e tattica poi dobbiamo anche analizzare un pochino la situazione delle forze armate russe dal punto di vista morale e credo che da questo punto di vista noi abbiamo un segnale importantissimo sono morti otto o nove generali cosa vuol dire che sono morti otto o nove generali onore al merito di chi combatte in prima linea con i suoi uomini ma il problema qual è il problema è che nella struttura mentale delle forze armate russe non c'è delega di autorità il generale deve andare in prima linea a controllare che le sue direttive vengano eseguite perché se manca il generale si ferma tutto ed è quello che è successo a chi è perché deve andare perché non si fida di quelli che sono sotto perché non si può fidare di quelli che è sotto nel senso che non può fidarsi dell'iniziativa di quelli perché non c'è l'iniziativa fa parte proprio della cultura militare rusta quello di non dare l'iniziativa ai gradi più bassi aggiungiamo una debolezza dal punto di vista delle comunicazioni tattiche abbiamo sentito le comunicazioni in chiaro fra i reparti fra i reparti dell'armata russa che dal punto di vista dell'intelligence sono un gioiello ragazzi se io sento il mio nemico che parla in chiaro a questo punto me lo sono fatto quindi questo per dire che l'esito della guerra non è affatto determinato e gli ucraini possono ancora avere la meglio allora diamo il benvenuto ora parla carlo panella sicuramente